ciao ragazze ciao a tutte e ciao a tutti nuovo video blog barra chiacchiericcio come state spero bene sperando che senta bene la mia voce perché ho messo stavolta il microfono quindi non so cosa si possa sentire se perché la televisione altissima però sperando che si senta bene il microfono allora ho messo la luce perché almeno così mi vedete bene e chiara soprattutto e limpida nulla qui sono di fronte al computer ogni tanto guardo se posso fare qualche video tag allora vedete la faccia domanda perché sono un po mezza fredata quindi vabbè dettagli e niente ora vuoi riprendere un altro video da youtube per poterlo come si dice fare un altro video tag con voi dopo questo video che riccio non so neanche io se riuscirò a fare video che ricci cioè non parli di fare video tag lo devo dire scusate e niente se non funziona non capisco c'è qualcosa che non mi torna eppure stava funzionando il brutto prima ecco non ho cliccato non ho cliccato bene spero bene perché vabbè sappiamo che quando queste cose non vanno c'è poco da fare aspettate a riaprire a chiudere sto provando a riaprire a chiudere vedere se va ok non lo so ragazze come so dire niente allora vedo che video tag se lo riesco a video tag poi lo farò a caso mai dopo dopo questo video video tag centavanti o venti domande non lo so non lo so ragazzi ce ne è talmente tanti che boh voglio evitare di prendermi un bello spavento per le troppe domande a qui c'è un video tag conosciamoci meglio addirittura pure sì solo che qua c'è il fatto che qua non ci sono le domande non so perché non sono state aggiornate non sono state aggiornate le domande non saprei qua c'è un video privato questo video qui ma allora corro a vedere da altri youtuber che non voglio fare nomi ovviamente perché non so se mi guardano ancora o meno quindi vabbè non ne ho proprio idea boh vabbè comunque sto cercando di fare questo video con voi chiacchierare un po con voi e volevo fare questo video tag ma vedo che non trovo le domandine conosciamoci meglio video tag aspettate che lo metto ah ce n'è solamente due che strano no due o tre due no aspettate quanto meno che sarà meglio 1 2 3 solo tre video di questi qua è strano però sì sì vediamo un po e questa mosca dove vola via quante domande sono allora via un po allora sono 1 2 3 4 5 6 e 23 domande vabbè io parto non è non so quante domande potrei fare ah vabbè io arrivo fino al 22 potrei arrivare fino al 23 ma non lo so ah ecco no ho sbagliato mi sembrava una domanda fuori luogo la 23 invece no stavo guardando per correttezza la 23 non ve la spoilerò però è una domanda che va anche bene per me ok va bene e niente ragazzi questo era per fare un video tag con voi e il video tag ve lo farò dopo questo video appunto oggi è domenica comunque buona domenica a tutte e man mano che pubblico questo video sempre se lo riesco a pubblicare se non si sente male sto video ve lo pubblico ma ve lo pubblico senza editarlo oppure se lo edito cerco di non tagliare nulla perché se taglio qualcosa non si capisce una mazza tanto è per divenne una quindi prefesco di non tagliarlo tutto lì semplice da dire e niente allora come miniatura non credo che metterò niente in questo video perché se no ho la metto cosa mi suggerite ma sì dai mettiamola eccomi se avete visto una piccola cosa strana nel mentre sorridevo era perché stava facendo c'è l'icona qua a destra c'è un tastino un tasto sì un un bottone sì ciao un bottone che potete cliccare la foto io ce l'ho non so di voi chi abbia il cellulare come il mio potete benissimo schiacciare o per la tasta pausa per il video o per avviare il video ma io ho schiacciato anziché per chiudere il video per fare la fotuccia niente niente ragazzi questo era il video appunto quante volte ho detto niente vabbè non lo so comunque io adesso concludo quel video vi ringrazio ancora per averlo vabbè ho detto poco e nulla oggi lo so però era solo per farmi un po' di compagnia non so quando vedrete video di trucco perché pochi ne sto facendo mi sto truccando sempre tanto ma tanto se mi trucco tutti i giorni ma sobria non troppo pesante una cosa di mezzo una via di mezzo cosa di mezzo me sto dicendo una via di mezzo ovvero ma mascara sopracciglia no sopracciglia di mascara come sto dicendo no vabbè sapete perché sto parlando tutta strana allora mia nonna sta facendo chiasso e io non riesco a parlare ma se lei fa chiasso non riesco a parlare vabbè e niente volevo dire che ah sì che praticamente devo anzi vorrei più che altro devo registrare un altro video tag questo appunto vi dicevo era un video che cresce tanto per dirvi che mi sto truccando sobria appunto l'ho già detto non so quante volte ma se questa fa chiasso come faccio a spiegarvi le cose non sono irritata però si capite bene che se fate chiasso su o giù o a fianco di ma anche a destra mi riesce difficile concentrarmi in quello che devo dire o sobria che lo fa apposta lì non lo so o non glielo ho detto che stavo registrando ma potevo anche evitare di farlo solo vogliamo che vediamo allora mi truccavo solamente mi stavo truccando in questi giorni come faccio sempre uniformando le sopracciglia dandole una disciplina alle sopracciglia e poi un po di mascara correttore blush o bronzer quel che è è un po di lipgloss a burro cacao quello che non è null'altro e niente cos'altro dire niente vestire mi vesto casual o come si vuol dire normale casual non so anche cosa vuol dire però tanto per dirvi che mi vesto semplicemente normale nulla di che non sono una fashion blogger però mi piace vestirmi così normale semplice si può dire così forse anche casual non so se si dice così maglietta camicia e jeans e scarpe da tennis forse quello modo di vestire casual può darsi non lo so casual casual come volete voi niente adesso è tutto e ci vediamo dopo questo video col video tag ok conosciamoci meglio a dopo